Il consiglio è quello di allenarsi bene, perché di solito come uno si allena durante la settimana alla fine gioca, quindi giorno per giorno, allenamento dopo allenamento, esercitazioni dopo esercitazioni, bisogna cercare di dare il massimo e cercare di dare sempre qualcosa in più, perché comunque sono sfide, se uno si abitua ad allenarsi a 10 all'ora, in partita va a 10 all'ora, se uno invece si abitua ad allenarsi al top, in partita sicuramente gli viene tutto più semplice.